Nobles! Ma li sono già persi. Com'è possibile? How easy possible? How is it possible? Come c***o è possibile? E non metterti a discutere che sei solo un tossico. Da chi si contro l'amano, frate, ma che c***o fai? Ma mettiti dall'altro lato perlomeno. Oh c***o, ma c'è il vetro sporchissimo. Ma perché non lo pulisco mai prima, porca t***o? Guarda questo mostro. Mamma mia quanto è brutto. Oh ma non si vede proprio niente, te lo lo giuro. Ma è schifo po'. C'è un mostro verde. Appena accetta, 82 casi. Non è positivo. Paravano a Ducati quindi è tutto normale. Tu che fai bro? Tu che fai? Niente, ma è regola che qui ci debba essere il traffico, non ci sta niente da fare. Ah, che bello vedere due corsie dove dovrebbe esserci ne una sola. Anneggiamo a c***o, anneggio. Uè, più corsie create, più il traffico c'è. Non ne c***o faci tutti i corsi, diminuisce il traffico. No, è la stessa cosa, se è peggio. dogo. Ah, dogo. Il patrone non si è accorto di nulla. Guarda l'amico blu, ora riuscirà metterlo mannaccia amico blu mannaccia amico blu dove ma dove sto io come ne esco da questa situazione ma io mi sta andando in ebollizione il motorino porca vogliono camminare un poco il piacere è possibile ma che io debba fermarmi per aspettarli tazzeca mutando angulo buongiorno principessa ah ma mi scordo sempre su dosso mannaccia mamma mia ma che fai donna eh donna donna pellicolo pellicolo costante poco poco ci è mancato che tozzasse il motorino veramente poco tozzasse ma perché parlo così no tozzasse che urtasse il motorino parliamo bene caldo caldo ma sono bellino però ho scherzo a parte non va a lavorare sotto il sole tutta la c***a di giornata poverini mamma mia olè un'altra famiglia sul motorino un'altra intera famiglia sul motorino a quanto mai oh fra oh fra questa è proprio tutta la famiglia però al completo proprio tutti rigorosamente senza casca ma seppure non te lo vuoi mettere tu moccacchi te m***a mettoncela figli tu mettilo al tuo figlio insegna al tuo figlio che mettere il casco è importante porca m***a il cane di prima è quello di prima non è quello di prima chi mi sta chiamando cosa è successo chi mi vuole che cosa sbagliata che cosa sbagliata un attimo guarda mannaccio buc***a mannaccio bambola sussurranna palle ho il fisico perfetto da fatta mamma sogni la copertina e tu non vuoi studiare o mettimi c'era da 600 eh vai 600 vai vai nonna buongiorno buonasera non so che ora siano stavo però guarda come cammina sulla destra signora acqua fa strike la signora butta tutti i motorini a terra mamma mia che caldo sto buttando il sangue sto buttando il sangue mamma mi si è tutto sangue proprio è un po caldino si è tutto sangue la signora è pazza la signora è pazza l'hai visto pure tu fra ma è assurdo è troppo amico 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 stavate di buttare a metterla amico amico mannaccio a guardarello veramente ah già sto sudando no io volevo farle passare però oggi ricordata ma è verde perché dovevo farle passare quindi ve le ho fatte passare più allora polizia municipale sei bella e cara tutto quello che vedo però te lo anzi paola in ma era bobo marley quello è la reincarnazione di bobo marley wow zio come sei italiano come sei italiano elegante sulla vesparella a napoli guarda queste strutti parlano di me ma nemmeno conoscono guarda frate mio parcheggiatore abusivo guarda questa cattiva frate mio parcheggiatore abusivo ma perché non devo trovare una fatica è quello che torga è oh mamma mia che torga è quello frate 135 eh non è normale frate 135 ma è bollente 150 per fare video faccio i video da questo pochettino pochettino con la targa bulgara e l'ho detto ogni qualsiasi macchina abbastanza patente che vedete alla targa straniera per polso obbligatorio perché si paga troppo di super bullo ho avuto molta paura ok hanno fatto contro mano no no ma non va tutto giro oh frate ma da quant'è che c'è il contro mano là però quanto è bello il vesuvio quanto è bello il vesuvio da 1 a 10 quanto è bello il vesuvio da 1 a 10 ma che mi è successo qua bello e buo ma io prima sono passato era normale prima che cos'è era come puzza che cazzo hai combinato era rosso si era rosso ma che c'è succede se cazzo è bello ah tengo un fuso in mezzo in pack fra fanno un bucchia di camera c'è credo che sono un fuso in mezzo in pack 135 gradi eh no ma si sente fra ma pure per te nel traffico guarda il mio fatto non è busto siamo tutti in fusi in mezzo alle pacche ma tu guarda come quelle moto che non dovrebbero stare là stanno tutti quanti sparse ma da cazzo proprio tutti in mezzo stanno si passa? permesso? ma guarda fatemi checchio come c'è molte la è morta la prizione spegnila spegnila mannaccio tutto c'è parte la moto senza la prizione cioè non parte quindi come cazzo fai rimanila un attimo qua non possiamo rimanere qua però ce la fate arriva fino a là ci fermiamo a là arriva fino a là ce la fai? parte c'è tutto il culo bagnato fa pure tussa non parte porca era una botta rete ma come sono belle le tucati mamma mia come sono belle ma dove sta andando pepe? coi si fra ma in che senso? e dopo aver pagato una parigina una bottiglia d'acqua ben 6 euro posso tornare a casa in lacrime mi sono rotto il cazzo mi sono rotto il cazzo di pagare tutto così tanto non ce la faccio più partendo dalla benzina andando a finire dai beni primari tutto più alto e mi sono rotto il cazzo io ho capito siamo sul lungomare c'è la bella vista il luogo è tutto quello che vuoi tu però no fra banane ne approfitto di questo tramonto per dirvi che siamo quasi arrivati a 10 da fa manca veramente poco 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 quindi sapete già cosa fare vi voglio bene voglio un bacione grande grande alla prossima mua